Ora inizio l'incontro Giocare con la letteratura. Conduce Michele De Mieri, Jonathan Lethem. Buonasera, ben trovati. Stasera incontriamo Jonathan Lethem, che dirò due cose per chi non lo conoscesse, per chi non ha letto i suoi libri. Jonathan Lethem è uno scrittore della generazione a cui apparteneva anche David Foster Wallace. Questo lo dico subito perché tra l'altro Jonathan Lethem ha avuto un incarico anche molto prestigioso al Pomona College in California. Jonathan ha preso la cattedra di scrittura creativa che fu di David Foster Wallace. Questo è il libro di cui parliamo stasera in particolare. È un libro per certi aspetti con temi che già erano negli altri libri di Jonathan Lethem. Però rappresenta davvero una novità perché rispetto agli altri libri che erano un incrocio di generi, Jonathan Lethem ha avuto il merito, insieme ad altri autori della sua generazione, appunto anche come Michael Chabon, di portare nella letteratura una serie di contributi della cultura popolare, altrimenti detta cultura bassa. Ci sono nei suoi romanzi personaggi che si ispirano al mondo dei fumetti, alcuni si comportano, sono dei veri e propri supereroi. C'è il meccanismo del noir, spesso il viaggio del libro funziona con un meccanismo di detection, cioè si va a cercare qualcosa, anche se il tema poi centrale del libro spesso è quello dell'orfano. Vediamo che è uno dei grandi temi della narrativa di Jonathan Lethem. Alcuni di questi libri importanti erano stati pubblicati prima dall'editore Marco Tropea e invece recentemente, proprio con questi ultimi libri, Jonathan Lethem pubblica per l'editore Bompiani, che credo sia un editore anche più adatto finalmente perché la scrittura di Jonathan Lethem venga conosciuta in Italia precedentemente, dicevo Minimum Fax e Marco Tropea hanno pubblicato i suoi libri, tra questi libri che sono più o meno una decina, io ne segnalerei tre in particolare, uno si chiama Brooklyn senza madre e quindi questo, l'altro si chiama La fortezza della solitudine e Chronic City. Sono i tre romanzi principali, poi Jonathan ha scritto dei racconti, delle piccole storie di sua esperienza, sua vissuta, e poi recentemente è uscito un libro molto bello che si chiama L'estasi dell'influenza, che è un libro, quando già forse avrete letto un po' di romanzi, è veramente un viaggio dentro il lavoro di Jonathan Lethem, è un viaggio però dove Jonathan Lethem fa il giornalista musicale, va a intervistare Bob Dylan, parla della cultura pop americana, recensisce Roberto Bolagno, insomma è proprio una specie di summa del suo lavoro curioso di lettore, oltre che di scrittore. Quello che è importante sottolineare, questi libri precedenti sono libri crossover, in cui la letteratura, il cinema, il noir, tutti i generi vengono frullati, vengono montati, sono libri in cui l'allegoria, il livello di allegoria, diciamo, so che Jonathan non ama molto la definizione di autore postmoderno, ma diciamo un po' in quella dimensione lì. Invece I giardini dei dissidenti, che è il libro di cui parleremo diffusamente stasera, è un libro totalmente diverso, almeno nella forma. Vi dico subito che è un libro che parla del Partito Comunista americano, ma il libro comincia più o meno negli anni 50, nel 1955, e arriva fino a giorni nostri nel 2012, quando questa terza generazione praticamente partecipa delle lotte di Occupy Wall Street, del movimento. Quindi si parte da un partito che è stalinista, diciamo, perché siamo negli anni precedenti alle rivelazioni di Khrushchev, che vengono pubblicate proprio sul New York Times, vengono rese note al mondo, e attraversa 60 anni di storia americana. È un libro, in questo, la scrittura di Jonathan è uguale agli altri libri, cioè noi non seguiamo questo percorso storico cronologicamente. Giustamente, Jonathan ha più volte detto, io monto i miei libri come funziona la memoria, la memoria non è cronologica, io sto parlando in questo momento, ma posso, mentre sto parlando, pensare a un fatto mio di un'ora fa, o come di dieci anni fa. Quindi questo libro, molte volte, i personaggi, c'è un andi, rivieni temporale, cioè, prendiamo una notizia, poi torniamo indietro, poi torniamo a vedere lo sviluppo di questa notizia, anche se cronologicamente, diciamo, l'apertura e la chiusura sono 1955 e 2012. Questo libro è incentrato su figure femminili, è un'altra novità, perché, come dicevo prima, gli altri libri di Ledham sentono un Brooklyn senza madre, lo dice dal titolo, poi vedremo questo a che fare anche con la biografia privata di Jonathan. È un libro in cui le figure femminili sono importanti e Rose, che è la comunista, diciamo, la prima generazione di questa storia, è davvero un personaggio che sembra uscito da un libro, mi veniva in mente, ho sposato un comunista di Philip Roth, diciamo, questo tipo di libro, per darvi delle bussole, somiglia molto a questi libri di Roth che hanno raccontato l'America degli ultimi 50-60 anni, in particolare, appunto, ho sposato un comunista, ma anche il complotto contro l'America per questa dimensione storica, ovviamente, oltre che pastorale americana, perché anche qui il rapporto, la ribellione dei figli verso i padri è molto importante, come in questo libro. Quindi, il cuore di questo libro è comunque il posto che ha la politica nella vita delle persone, cioè, sostanzialmente, il libro dice questo. Poi, al di là del giudizio storico che dà dell'avventura, diciamo, forse velleitaria del Partito Comunista Americano, della sinistra, tutto questo è detto con una grande passione per questi personaggi, che sono personaggi quasi tutti passionali, adesso poi ne parleremo con Jonathan. La prima cosa che vorrei chiedere, prima poi di adentrarsi nell'esame del libro, è questo incipit del libro. Siamo in una cucina, in un tinello di una cucina americana, nel quartiere del Queens di New York, dove è ambientato gran parte del libro. O la pianti di scoparti sbirri di colore, o sei fuori dal Partito Comunista. Questo è l'ultimatum che questa cellula del Partito Comunista appunto dà a Rose. Questo inizio, a me, quando l'ho letto, ha fatto subito venire in mente il teatro di Sabbat di Philip Roth appunto, solo che lì era tutto personale. Lì diceva, se non smetti di scopare con le altre donne, non stiamo più insieme tutta la vita. Volevo sapere se aveva in mente, se è una citazione proprio precisa, perché qui è il privato che diventa pubblico, è la vita privata di Rose che deflagra nel partito e quindi viene espulsa. Siamo nel 55. Nel libro di Roth è una storia tutta personale, invece rimane tra l'amante e il protagonista. Yeah, you know, of course I was thinking of that sentence that begins Satisfator, and I felt that I was beating Roth, because for him the word fucking was only the third word in the sentence, the third word in the book, but for me it was the second word in the book. So the only one who can top that would be someone who started their book with the word fucking as the first word. I've still left that possibility open. I wrote that sentence at a time when I thought that was going to be the third chapter of the book, however, so actually I'm sort of exaggerating to talk about it as competitive with Roth. I thought the reference would be buried and then the book became reorganized and it popped up right to the front of the book. Sì, in realtà pensavo esattamente al teatro di Sabba di Philip Roth, però l'ho fregato, l'ho battuto, perché lui ha usato la parola fucking come terza parola e io l'ho usata come seconda parola e quindi ci fregherà soltanto qualcuno che la userà come prima parola. Ad ogni modo io pensavo di inserire questo dialogo, questa battuta al terzo capitolo, ma poi ho cambiato idea e l'ho messo subito all'inizio. But, you know, he was very important for this book and I read him when I was a teenager along with Norman Mailer and Saul Bellow and Bernard Malamud and these writers were dominant in American writing when I was young but I personally was obsessed with much more marginal kind of American writing. I wanted to write science fiction and I wanted to write detective stories and I saw these great kind of towering, ambitious Jewish novelists as a problem. They were obnoxious. They were the establishment and I wanted to tunnel underneath the establishment. I wanted to work like a kind of a terrorist or a mole and topple this giant tower that they erected in American fiction. Sì, in realtà è chiaro che il mio scrivere sia stato influenzato da questi scrittori. Io leggevo Miller, Saul Bellow e altri scrittori della loro generazione queste figure enormi e sovrastanti dei grandi scrittori ebrei americani. Io in realtà pensavo ad un altro tipo di carriera letteraria mi immaginavo scrivere fantascienza o gialli e proprio perché queste erano delle figure torreggianti prepotenti e fortemente presenti nell'immaginario collettivo la mia idea era quella di scavare un tunnel al di sotto della loro letteratura in un certo senso. For the first 25 years or so that was my operation I worked from the margins and this is one of the reasons I collected so many extra literary tools comic books film rock and roll because I wanted to find a way to capture the ephemeral vernacular voice that I found in commercial culture in pop culture in folk folk culture and avoid being literary it took me all that time to realize that I could also look directly at these writers and engage with them in a more frontal operation mi ci sono voluti 25 anni 25 anni durante i quali io mi sono tenuta ai margini e li guardati da lontano e ho raccolto tutta una serie di strumenti che non erano propriamente letterari ossia i fumetti i film e il rock and roll mi sono serviti in realtà perché io intendevo catturare tutto quello che era vernacolare o che era comunque popolare che era effimero che era commerciale proprio per evitare la letteratura e poi invece mi sono accorto che potevo guardarli di fronte a me e potevo confrontarmi con loro Jonathan cosa 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 è successo appunto a parte questa forse diventare adulto come scrittore pensando di confrontarti con i maestri che avevi sempre guardato come lettore cosa ha fatto sì che tu cambiassi completamente diciamo rispetto agli altri libri l'area della tua scrittura l'impegno tuo politico nel movimento di Occupy Wall Street è stato importante la storia della tua famiglia poi ne parleremo insomma la nonna e la madre di Jonathan mi pare di aver letto che hanno ispirato almeno due delle figure principali del romanzo quali sono stati questi elementi diciamo scatenanti che all'improvviso chi ti conosce si è trovato davanti con questo libro in cui ripeto ci sono molte cose anche ovviamente di temi degli altri libri ma comunque è un libro totalmente diverso diciamo per certe cose well I think that for me experiencing the book as 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 the writer it's not a total break I I think it's a it would be an exaggeration because actually in many ways there are parts of this book that are implicit in earlier attempts especially a book called The Fortress of Solitude and that was a book where I had to learn to use personal material learn to use family stories and where I also had to recreate the New York City of the 1970s so it was a it was a chance to test my ability to do this kind of historical big historical canvas and that was the book that made me know that I was able to write this this one it was also the book that in a way made this book necessary in reality for me as a writer it was not a change so radical because the germ of this narration existed in a certain sense in other books and were perhaps only mentioned and in particular I refer to the fortitude of the solitude for me writing this book meant because that earlier book was so autobiographical but it was so incomplete it was a book where I isolated the image of a father and son as you pointed out earlier and I isolated them in time and space I put them on this one street in Brooklyn in the 1970s and I saturated them with the culture of the 1970s and the situation of a white kid growing up in a black neighborhood but I left out the world of my grandmother and I left out the world of my mother and I left out the politics I left out all of the left wing political protest that I grew up inside and so and so by writing an autobiographical book that was so incomplete so violently incomplete it it threw this book into relief for me as a as a possibility everything that had been excluded from the fortress of solitude was crying to be described in this book Sì, ho sempre usato materiale biografico in realtà e l'ho fatto in modo incompleto perché nella fortezza della solitudine io ho isolato volutamente la figura di un padre e di un figlio nella Brooklyn degli anni 70 e ho raccontato cosa significasse per un bambino bianco vivere in un quartiere di colore e ho saturato questo libro, l'ho riempito di tutta la cultura dell'epoca ma ho tralasciato volutamente il racconto di mia nonna e di mia madre, il racconto dei movimenti politici e quindi quello che è successo, l'aver lasciato così violentemente incompleto ha creato una sorta di gioco di alto rilievo e basso rilievo quindi tutto quello che non avevo detto nella fortezza della solitudine urlava e mi chiedeva di essere messo per scritto e così è nato poi il libro successivo, Il Giardino dei dissidenti Let me add a little more to this So my grandmother in particular was this enormous figure for me but one that I had held at bay because she was so formidable and she was so full of rage and disappointment and it was like growing up with your house on the side of a volcano trying to decide when you had better run away from the volcano because it was about to explode and this book in many ways is the book written by someone who's finally able to walk up and look over the mouth of the volcano and see what the fire looks like and my grandmother was also brilliant she was an intellectual and her sense of the importance of culture was very influential on me but it was also one I resisted what she revered was high culture Beethoven Thomas Mann you know Goethe you'll notice it was very German as well all of this was something I was terrified of I didn't want to think about but in a way the book's severity and the elevated language the highly literary language in this book represents my opening that door and meeting her on her own terms my grandmother my grandmother was a terrifying woman she was a very strong woman and I had always taken this woman to the long run because she was a strong woman she was a strong woman in her rage and in her sadness and living there was a certain sense like living next to a volcano e quindi la question fondamentale era quand'è che mi tocca scappare adesso devo andarmene via perché devo fuggire con il passar del tempo mi sono avvicinato a questo vulcano e con questo libro ho provato a guardare oltre alla lava alla pietra lavica fusa e ho cercato di guardare il fuoco di questo vulcano per quanto invece riguarda mia madre mia madre era una donna brillante un intellettuale una donna molto intelligente e diciamo che il registro alto del mio libro la letteratura e il linguaggio elevato lo devo certamente a lei però lì si trattava di Beethoven di Thomas Mann e di Goethe tutta la parte di cultura germanica e tedesca mi è arrivata tramite lei e per me era terrificante e quindi questo libro mi ha servito per confrontarmi anche con mia madre e per aprire questa porta che finora avevo tenuto chiusa per tanto tempo li contestualizziamo un po' nel romanzo appunto Rose a cui è ispirata dalla figura della nonna è un ebreo comunista viene espulsa nel 55 come vi dicevo conosce benissimo Marx tutte le opere di Marx ma il personaggio più importante della sua vita è Abramo Lincoln in casa c'è proprio un altarino quindi sembra quasi suggerire che il comunismo americano doveva tenere insieme Marx e Abramo Lincoln la lotta dei diritti di Abramo Lincoln quindi è un ebrea proletaria non è un ebrea non siamo a Manhattan nel Queens viene detta la regina rossa nel Queens siamo in un quartiere che si chiama Sunny Science Gardens che il quartiere è costruito negli anni 20 anche col contributo di Lewis Moonford è una specie di città giardino sul modello di quello inglese in cui sono una specie di palazzi tanti palazzi con dei giardini comuni poi questo quartiere si trasformerà molto fino ad arrivare agli anni recenti in cui qualcuno ognuno si è chiuso una parte di questo spazio pubblico quindi anche la mutazione di uno spazio di città Rose ripudia l'ebraismo se ne allontana insomma in qualche modo lo cerca di ripudiare tutta la parte irrazionale della religione però nel corso del romanzo verso la fine si avvicina di nuovo all'ebraismo anzi comincia a partecipare comincia ad andare a dei funerali di gente sconosciuta guarda il giornale più o meno vede l'elenco dei morti e va a questi funerali ebraici è una persona coltissima molto forte è una persona molto sensuale nel senso in questo senso per banalizzo faccio un esempio estremo Rose sembra molti dei personaggi maschili di Philip Roth cioè è una persona che si prende la parte di mondo si prende gli uomini che vuole la scena che vi ho letto all'inizio quando la viene cacciata perché va a letto con questo poliziotto di colore continua con lei che prende la mano del capo di questa cellula che è stato un suo ex amante si porta questa mano sul seno per dire tu non lo vedrai più tu uscirai dalla mia vita quindi è una donna molto vendicativa molto forte è una donna che poi però stranamente tutti i suoi uomini sono persone di destra diciamo repubblicani americani nixoniani quindi sono tutte persone dall'altro lato con cui lei stabilisce un dialogo diciamo il rapporto carnale è quasi solo la parte finale di un continuo duello sulla storia dell'America sui diritti su Nixon su Lyndon Johnson e altre cose Miriam è la figlia ovviamente la figlia ripudia questa madre cerca di starne lontano una madre troppo forte incredibile una delle scene con cui comincia la parte che riguarda Miriam nelle prime pagine del film è che Miriam è un adolescente di 16-17 anni porta per la prima volta a casa un fidanzato e dopo un po' la madre fa irruzione nella camera dove Miriam sta con questo coetaneo Miriam va subito via quindi Miriam cambia il quartiere quindi dai Sunny Science Garden del Queens va a vivere passano gli anni comincia a vivere al Greenwich Village quindi comincia a arrivare finisce l'epoca del partito comunista degli anni 50 questa America un po' più grigia e comincia la controcultura comincia la diffusione dell'LSD della musica Miriam sposa un musicista sposa un musicista è un irlandese cattolico che in questo ricorda un po' la figura dell'ultimo film dei Coen cioè questo musicista sta per farcela scrive delle canzoni delle canzoni folk poi come sullo sfondo comincia a spuntare Bob Dylan e quindi cambia la realtà Bob Dylan è quello che riesce a catalizzare cioè tutta la canzone di protesta la canzone dei diritti anche se il marito di Miriam tenta di inseguire questa canzone di impegno e finiranno poi in Nicaragua cioè alla fine degli anni 70 a scrivere canzoni impegnate sul Nicaragua quindi queste sono le due le due le due figure a cui è ispirata appunto c'è del materiale della famiglia la cosa è importante parlerei un po' della politica di questo punto di vista del partito comunista americano che intanzitutto sembra che probabilmente è così che la sinistra americana in particolare del partito comunista sia un fatto quasi totalmente newyorkese non solo perché Jonathan ama e ambienta tutte le sue storie a New York questo senz'altro è uno dei fattori che si ripetono in tutti i suoi libri ma sicuramente questo clima è tipicamente newyorkese questo dibattito spesso che anima il libro e anima anche i pensieri dei personaggi come erano questi comunisti americani al di là anche prima del giorno che arriva perché quando arriva il 56 il rapporto del ventesimo congresso di Khrushchev molti di loro vanno in Israele cioè quindi spostano l'avere sposato il comunismo in America nella missione sionista se ne vanno in Israele e altri diciamo escono dal partito alcuni rimangono un po' qualche anno fermo ed alcuni poi aderiscono alla controcultura mi sembra che il tuo giudizio su di loro è abbastanza critico sembrano persone un po' ingenue su alcune cose se ne vengono un po' in un po' in un po' in un po' Well, there's so many things you've said that I could get involved in, but, you know, this book, I think, well, the first thing to say, it's really important to say, is that, you know, when we're in Europe, your sense of what a communist party might be, you had a really, an active political communist party in Italian politics, and in different parts of Europe, obviously behind the Iron Curtain, the experience of what the Soviet Union imposed on those societies, it's so much more intimate. It's so much more tangible, for good and for bad. In America, in the 20s and 30s, when the American Communist Party came into being, the Soviet Union was a dream. It was a fantasy. It was very remote. You could project all kinds of utopian wishes onto it. And so, it attracted all kinds of American mythologies. And I think, in many ways, the American Communist Party was very truly American. It can seem strange, you know, like, it's like saying a vegetarian cheeseburger or something. But the kind of spirit of self-invention and transformation, the idea of remaking the world, all of these things made the American communists very typical Americans. In fact, what you said is true, but consider the difference between the American point of view and the European point of view and the European point of view. In the United States, the European point of view was also clear, the notion of communism, in the good and the bad. Quando negli anni 20, negli anni 30 nacque il comunismo americano e iniziò a prendere forma, l'idea dell'Unione Sovietica era una specie di fantasia, una terra mitologica nella quale ambientare ogni genere di utopia. Ecco, questo era molto americano e paradossalmente il comunismo americano era molto simile allo spirito originario della creazione dell'America. Ossia, potrebbe sembrare uno simolo questo del comunismo americano, come dire un cheeseburger vegetariano, ma no, perché in realtà dentro questo mondo utopico c'era molto della scoperta del West, della ricerca di una nuova storia, di ricreare un mondo nuovo. E quindi non erano necessariamente in contraddizione le due cose. You know, I think it's really true that this book, in a way, looks like a giant catalog of humiliations for American leftists. And, you know, the 20th century offered plenty of disappointment and confusion and despair for every kind of political dreamer. No question that that was true. And this book tries to give a kind of a name to a lot of these experiences. But this is also because I think I feel this fascination and love for people who have risked imagining the world other than the one we live in. And I see also the book as a kind of a description of their persistence. The way they, despite every kind of persecution and deformation and sectarianism and even naivete, they also have carried this torch under one name or another. I mean, I think in many ways the reason the book had to come up to the present day is that I see this as an unfinished story. Thank you very much. Thank you very much. Dovuto al fatto che io intendevo trasmettere o mostrare come questo dibattito e questa ricerca siano passati dagli anni 50 fino ai giorni nostri. Quindi estendere la storia significa aspettarsi che questi ideali comunque passino anche alle nuove generazioni. Occupai Wall Street, quindi Rose è la prima generazione, Miriam è la figlia e poi c'è Sergius che è il figlio di Miriam, che è questo ragazzo, possiamo dirlo insomma, che rimane orfano perché Miriam appunto e Tommy, il cantante, il marito di Miriam, muoiono in Nicaragua appunto, partono per andare a suonare in Nicaragua, a sensibilizzare a favore del movimento sandinista, vengono rapiti e vengono trovati morti. Anche questa è una cosa che Jonathan racconta in una maniera straordinaria, è quasi una cosa che quasi non noti, leggendo c'è questa notizia perché è organizzato dal punto di vista della memoria selettiva di Rose che non vuole accettare questa morte della figlia e del genero. E poi c'è questa terza generazione appunto che scopre l'impegno, che scopre la politica, l'impegno per il proprio paese in questa maniera, Sergius che viene allontanato dalla madre per non avere impegni politici, viene fatto adottare da una comunità, da una scuola di quacqueri, però anche lui un giorno è a Boston mentre si sta regando in aeroporto e incontra una giovane ragazza e che lo introduce a quello che sta succedendo con Occupy Wall Street. Volevo dire, tu sei stato molto vicino al movimento di Occupy, volevo sapere in che cosa sono radicalmente diversi, non rispetto al comunismo negli anni 50, in cui ovviamente la differenza è molto palese, ma anche rispetto ai loro padri degli anni 60 e degli anni 70, quelli che appunto sono andati in Nicaragua oppure contestavano i missili, la corsa del riarmo degli anni 70. Cosa è la differenza tra questa generazione? Occupy è un misterio, è un'occurrenza molto fascinante, perché è riuscita da un vacuolo, ed è un'occurrenza molto rispetto a una corsa. to give itself or who to claim as its parents and I suppose in a way this book asks this question of whether or not to look to the 60's it's so very natural for someone my age because I remember them you know as a child and I was marching against the Vietnam War I mean the my body remembers this version of protest this kind of dissident American identity but maybe the answer is in some older image maybe it's in some European image maybe it's you know Kropotkin or Trotsky or something and this is a kind of mystery because when the left loses its names and loses its continuity and loses its historical grasp which is very easy in America to do then it becomes a sort of nameless amorphous hunger and really I think that that's what Occupy defined was an appetite a desire for something that in many ways seemed nameless or inexpressible sorry ok what's so what happened to you Occupy Wall Street in reality is a kind of mystery because the movement has created a lot of in a vuote dramatic and already the fact of esistere e di riconoscersi e di darsi un nome è stato dirompente per la società americana. In realtà poi il movimento ha dovuto cercare dei genitori ai quali ispirarsi, ecco probabilmente una parte di questi giovani, come del resto è capitato a me, si sono riconosciuti nei movimenti degli anni 60. Io ricordo distintamente da bambino queste manifestazioni contro la guerra nel Vietnam e il mio corpo se le ricorda, ne serva la memoria di questa forma di dissidenza, ma forse l'ispirazione va ancora più lontana, va a Trotsky ad esempio all'Europa. Quello che sta succedendo però è che quando la sinistra perde un nome, perde anche di continuità e perde anche della sua presa sulla storia e diventa una cosa amorfa, diventa una specie di appetito amorfo, di fame amorfa. Ecco io nel libro volevo ridare un nome a questo desiderio, questo empito ideale. In che misura Obama e Bill de Blasio, il sindaco di New York, appartengono a questa storia secondo di cui è un'interessante questione, perché è un'interessante questione, perché on the one hand you have this completely revolutionary expression that seems to rise up almost against every possibility that American freedom will fulfill its promise and its possibilities for being a truly egalitarian society by electing a former slave, you know, lineage, into the presidency. It says that we are everything we've ever dreamed of being. So his election becomes this emblem of possibilities that's undeniable. It still has power. You know, you can still just feel 2008 and the fact that this occurred is meaningful. And when people say that it, you know, it created things like Arab uprisings, I believe that's partly true. I also think in a way it created to occupy. But on the other hand, and here's the dialectics, he was a perfectly ordinary neoliberal centrist politician who has done exactly everything that you would expect this ordinary neoliberal centrist to do. Was he an improvement on George Bush? Of course he was this. But has he been anything remarkable otherwise? No, I mean, I think, you know, I think he copes with impossible circumstances. But I also think his own personal political imagination is, the horizon for that imagination is very small. He's not so different from, you know, the neoliberal consensus. So, but this was all clear, even before he was elected, that this was where he was going to govern from. So he is and he isn't visionary. He means something in a visionary way, I think. Questa è una domanda interessante. Adesso parlerò da marxista. Allora, se si considera la questione da un punto di vista dialettico, l'elezione di Obama nel 2008 è stata significativa. La terra delle possibilità nel 2008 ha eletto come suo presidente un uomo che discendeva da uno schiavo. Ecco, questa è la prova che quella degli Stati Uniti è una società ugualitaria. La sua elezione è stata appunto un'elezione che ha sottolineato ancora una volta il ruolo degli Stati e quindi di come, diciamo, terra in cui tutto sia possibile. Addirittura, se arrivati all'approvazione del mondo arabo, dell'elezione di un presidente di colore, ecco, forse lo stesso si può dire della nascita di Occupy Wall Street. In realtà poi quello che è successo con Obama è che ha intrapreso una politica centrista che è quasi neoliberale. Quindi, certo, è meglio di Bush, di George Bush, ma, insomma, non molto meglio. In realtà sta cercando di fare quello che gli è possibile fare. Forse lo fa meglio di quanto lo farebbe un neoliberale, ma questo suo ruolo di visionario è rimasto ad uno stadio larvale e non si sta comportando da visionario al momento. dell'escrizione. I would add, just one more thought. You know, this temptation to think about Obama or de Blasio or any other individual as if the answer is in individual politicians who could be elected, I think that it's a temptation that must be resisted. Because, of course, really the question is the structures. The organization of our world by, you know, by this kind of global corporate, transnational corporate capitalism means that anyone will be functioning. If they're elected to run that system, they will run that system because this is the structure we live inside. So, to focus too much on individuals and what you wish or dream they might be able to accomplish when you're not analyzing the system is pretty useless. Quindi, tornando a Obama e a de Blasio, quello che ritengo è che sia sbagliato, affidare ad un personaggio politico, l'uno all'altro, il ruolo di salvatori del mondo, perché si trascurerebbe un fattore fondamentale che ormai il mondo è gestito, possiede una struttura tale governata dal capitalismo transnazionale che rende del tutto inutile questo genere di ambizioni in realtà. Perché considerare un politico, un salvatore, significa non considerare tutto il resto del sistema in cui è tenuto ad agire. Lascio a qualcuno di voi, poi se volete fare qualche domanda su queste cose più politiche, io tornerei proprio alla scrittura e all'atto d'amore che è questo romanzo per la città di New York. Se amate leggere libri su New York, Paul Oster, Jerome Charing, Henry Roth, grandi libri che hanno raccontato New York, questo è come tutti gli altri libri di Jonathan Edelman, veramente un atto straordinario di devolzione per quella città, c'è un momento bellissimo in cui lui racconta proprio una linea, cioè i due fuggono sulla metropolitana e lui racconta questa linea della metropolitana, mi pare la linea 7 se non ricordo bene e se non ricordo male. Volevo chiedere se scrivere di New York significa scrivere di minoranze, nel senso che si scrive di comunisti, di ebrei, di neri, di gay, cioè se come essendo quella città melting pot, quella città puzzle, scrivere di New York inevitabilmente diventa scrivere di minoranze. Do you like to write about minoranze? Yeah, I think so, but also, New York City, I grew up inside, it took me a very long time to understand how I felt about it. I didn't write about it for a few books at the beginning because it was, like my grandmother, it was overwhelming. But actually coming to Europe taught me a tremendous amount about how I understand the city that I come from. And that is because I think New York is a kind of fulcrum between Europe and the American story. I should let you say this. You say this and I'll continue. Io sono cresciuto a New York e ci ho messo un po' a capire come la consideravo. Era un po' come mia nonna, insomma, era una presenza che mi sovrastava e che mi faceva un po' paura, quindi l'ho affrontata con il passare del tempo e diciamo che ho capito la mia città scrivendone, perché New York in realtà è un fulcro tra l'Europa e la storia americana. And the reason I say this is that, and I've written about this again and again and again, the American myth is of leaving Europe behind, a departure from history for the frontier, for this kind of imaginary blank space. Now, never mind, the space was actually full of civilizations, but we treated it like a black space in which we could reinvent and leave behind old hierarchies, old religious oppressions, and in a sense dream of starting history again. La ragione per cui si andava in America era lasciare l'Europa e creare una nuova frontiera. e si considerava questo spazio aperto come lo spazio in cui tutto potesse realizzarsi. In realtà non era uno spazio vuoto, così come lo vedevano all'epoca, perché era uno spazio che era abitato, era abitato anche da civiltà antichissime, ma questo sarebbe un altro discorso ancora. però la nuova frontiera dei pionieri era una ricerca di nuova vita, una voglia di rigenerarsi, un tentativo di abbattere le gerarchie o le oppressioni religiose. In sostanza era un modo per ricominciare a vivere. Quindi perché di New York's storia come un'immigrant città, è il giro come, è come un'amica, è come un'amica, e si stai in un'amica, è un'amica. Ma se stai in un'amica, è un'amica, è un'amica. E' un'amica che è un'amica che è un'amica, è un'amica che si volessero a vivere, ma non vogliono andare in California o New Jersey. They wanted to stay in this weird mixture, this weird halfway state of New York City where you are leaving Europe or leaving some other identity behind but you're also holding on to it. You're forming an enclave. And so the city I grew up in was a city of territories. I grew up actually next to an Italian neighborhood. that was very, very proudly, defiantly unassimilated. It was a place where Italians had come and refused to become fully American. and this was also true of all of my neighbors. They were all allowed to retain some sort of mongrel identity. New York would absorb all of this history and all of this identity and all of these problems and juxtapositions and just let them sit there instead of smoothing them over into some integrated American identity. and it was a place that was conscious of history. Yes, because New York is a city that has a door and for the immigrants who arrived there were half a road and those who stopped were not yet Americans. and the fact that they were left around and the fact that they wanted to stay away from the United States and the fact that they wanted to stay away from the United States and not to be expended and to not to live in other areas to be absorbed by the Great America for those who does not want to go to California or New Jersey and rest in New York meant to be a new identity but to keep themselves saldamente ancorati alla vecchia identità, con tutti i problemi che questa vecchia identità comportava. Quindi New York, in un certo senso, era una sorta di enclave di diversi territori. Gli italiani rifiutavano orgogliosamente di integrarsi, ad esempio, e mantenevano vivissime le proprie tradizioni. E quindi a New York si arrivava teoricamente per ripartire per altrove, ma poi si restava lì. In a way, this was what I wrote about in Motherless Brooklyn and The Fortress of Solitude, was what it was like to grow up inside this chaos of languages and cultural juxtapositions. And one thing is, when you live in a place where so many different cultural languages are being spoken, new ones are also being invented. It becomes a place of invention. So New York is where hip-hop was invented, and I was watching this when I was growing up. New York was where advertising was invented, which has conquered the world. You know, it's kind of a place that throws up new languages because it's such a laboratory. Quello era l'epoca del caos, in realtà, perché più culture convivono, più lingue si parlano. E questo vivevo io da ragazzino. C'erano diversi quartieri e ciascuno continuava a parlare la sua lingua. E quando ci sono tante lingue, si finisce per inventarne altre ancora. In effetti, a New York è nato l'hip-hop, e io l'ho visto nascere. È nata la pubblicità e da lì è conquistato il mondo. In realtà, quando si gettano le basi di nuove lingue, si assiste alla creazione di un laboratorio. E in effetti New York è una città-laboratorio. La cosa molto bella, dal mio punto di vista, del libro è che i romanzi, in particolare americani, ma anche europei, quando ricostruiscono un'epoca, con le biblioteche a disposizione, con internet, spessissimo i romanzieri esagerano nel ricostruire il contesto. Jonathan poteva mettere tutte le musiche, anni 50, i film, i libri che si leggevano, perché ha una cultura, da questo punto di vista, ve lo assicuro, enciclopedica su questi temi. Poteva scrivere i fumetti che leggevano i ragazzi nel Sunnyside Gardens, appunto. E invece ha scelto un'altra via. Quando leggete questo romanzo, il romanzo è un'istanza emotiva, un'opportunità emotiva. Come l'ideologia la mostra proprio come un fattore emotivo. Anche la ricostruzione di questi anni, cioè prima gli anni 50, poi gli anni 60, poi fino a arrivare a... Ci sono delle citazioni, delle cose, appunto, Bob Dylan, così, ma non hai calcato la mano. Eppure, ripeto, tu avevi tutte le conoscenze per poter riempire il libro di memorabilia di ogni decennio. Questo mi sembra una cosa molto bella, perché hai dato più spazio alle emozioni, al circolo dei pensieri dei personaggi. Sei stato sempre di questo avviso o avevi cominciato uno studio più dettagliato di fonti, di cose, di ricostruzione? O hai subito dato la precedenza a questo istanzo emotiva del libro? Well, thank you. Thank you very much for saying that about the book. You know, I think this really comes about because of my very grave distrust of the historical novel. That, you know, I went a very long time before I ever wrote one. and that's because as a reader I find them really suspicious. This idea that you can kind of draw a curtain aside and the past is just waiting there to be beheld. Like a play that you can attend. You buy a ticket to the past and they're... Oh, look, it's still there and you can look at it. I don't think that the past really works this way. Grazie, prima di tutto, per queste parole tue sul mio libro. In realtà io ho sempre guardato con profonda diffidenza e sfiducia al romanzo storico. Non mi piace l'idea di considerare il passato come una pièce teatrale nella quale si possa entrare ed uscire a piacimento. Quindi ho cercato un altro modo per raccontare il passato. Instead, for me, I think the past is a kind of series of explosions. It's something that penetrates our present experience in an irregular and uncomfortable and unexpected way. It's really an argument that the present is conducting that brings the past to life again. And so I wanted the characters in this book and the book itself to be subject to this process of the past as an argument, as an experience and as an emotion rather than as some museum piece. In realtà il passato è come un'esplosione. È un'esplosione i cui effetti penetrano al presente. E quindi nel mio libro ho cercato di riportare in vita il passato e di raccontare come i miei personaggi in continuazione si relazionavano con il passato. Non tanto come dentro a un museo ma dal punto di vista dei loro sentimenti e delle loro emozioni. C'è un personaggio che più di altri ricorda gli eroi o gli antieroi dei romanzi precedenti come il protagonista che ha la sindrome di Tourette che gira per questa città quasi impazzito altri personaggi che immagino di essere dei supereroi e questo si chiama Lenny si chiamerebbe Lenin perché i genitori gli hanno dato questo nome. I genitori poi appunto sono quelli che se ne vanno in Israele quando esce il ventesimo rapporto del Partito Comunista e lui rimane orfano di fatto da solo in America. Lenny è davvero quello che attraversa New York è una specie di pallina impazzita che attraversa tutti i quartieri di New York e lui è uno scacchista è un collezionista di monete ma soprattutto c'è una storia molto bella che voglio chiedere quanto è vera perché il libro ovviamente parlando di New York e parlando dell'America c'è molto anche il baseball uno sport per noi sempre abbastanza oscuro e a un certo punto Lenny vuole fare una squadra comincia a farsi ricevere da qualcuno che potrebbe finanziare una squadra di baseball comunista che mi sembrava una bellissima volevo sapere se era un fatto vero che ti ricordi o che è documentato di una tua pura invenzione è stato un momento quando c'è una cosa proposta che è stata una società una società magari non comunistà ma una società in America e la comunità che avevano le teams it wasn't exactly as I portray it but you know there's nothing you can invent that the 20th century didn't also invent it's the greatest inventor it's the greatest writer of fictions possible and yeah Lenny is he is in a way there to you know sort of to undermine the book's authority he's like the the pure anarchist spirit let loose and he he probably does connect to my earlier books in some ways I think I'm never comfortable with a book that isn't also ridiculous and this subject is ridiculous so Lenny is there to keep keep my eye on the ball of the ridiculous Yes Lenny in realtà ha questa idea che abbiamo avuto anche noi c'è stato un momento in cui si pensava ad una squadra di baseball socialista non esattamente comunista ma socialista ma in realtà l'ho inventata io bisogna dire che il più grande inventore non c'è niente che si sia detto scritto in un libro che il ventesimo secolo non avesse già inventato perché il più grande il maggiore inventore di storie è proprio il ventesimo secolo ecco Lenny è un personaggio che mina l'autorità è uno spirito libero un anarchico puro che se ne va in giro come una scheggia impazzita per la città di New York è l'anarchia a piede libero ecco Lenny è un personaggio che mi aiuta a evitare una cosa che io detesto sia il senso del ridicolo è il personaggio che mi aiuta a tenere gli occhi aperti e stare attento a quello che faccio a tenere gli occhi